Un lockdown per iPhone anche basta lockdown direi io, però al tempo stesso quello per l'iPhone non può tornare veramente tanto utile perché si parla ulteriormente di privacy, di sicurezza per l'utente e Apple ci tiene particolarmente a fare in modo che queste componenti di sicurezza, di privatizzazione dei dati personali degli individui vengano rispettate. Quindi in questo video andremo a scoprire che cos'è la lockdown mode e quando verrà introdotta e come verrà introdotta. Ma prima di iniziare come sempre ciao a tutti, io sono Gembe, benvenuti sul mio canale, se non vi siete ancora iscritti fatelo, vi ricordo di andare a seguirmi anche su Telegram nel quale pubblico ogni tanto delle cose interessanti, molto belline e se state guardando questo video prima del Prime Day del 2022, ma anche del 2023, del 2024 perché probabilmente lo farò anche nei prossimi anni, non lo so, comunque se state guardando questo video prima del Prime Day del 2022 sappiate che pubblicherò dei link, delle offerte, delle cose che troverò. Chiaramente sono tutti i referral, quindi se cliccherete e comprerete l'oggetto che vi sto consigliando, io guadagnerò una piccolissima percentuale, tipo l'1%, non si dipende dall'oggetto, che aiuterà comunque a sostentare il canale, quindi tutto quello che guadagno sull'internet lo reinvesto per il canale. Perciò se volete darmi una mano, fatelo in quel modo senza dover spendere nessun euro direttamente, almeno per me. Quindi grazie mille. Non perdiamoci quindi in chiacchiere come al solito e cominciamo questo video. Apple ha annunciato questa Lockdown Mode. È una nuova funzionalità che sarà disponibile su iOS 16, quindi sia iOS 16 che iPadOS 16 e al tempo stesso anche MacOS Ventura. Grazie a questa nuova modalità, iPhone, iPad e Mac saranno in grado di proteggere gli utenti dai cyberattacchi di aziende private, che attaccano quindi il dispositivo al fine di prelevarne dei dati sensibili e quindi magari truffaldini, cercando di o rivenderli o entrare nei vostri dati e ottenere informazioni che teoricamente non dovrebbero poter ottenere. Questa nuova funzionalità in italiano verrà tradotta con modalità di isolamento, solo per dirvelo, per farvi sapere che è interessante la traduzione. Si potrà quindi attivare nelle impostazioni andando nella sezione sicurezza e privacy e quindi ci sarà modalità di isolamento. Una volta attivata questa modalità di isolamento metterà alcuni limiti alle funzioni di iPhone, aumentandone di conseguenza la sicurezza. Ma guardiamo insieme che cosa fa effettivamente nel concreto. Blocca nell'app Messaggi, quindi esclusivamente nell'app Messaggi, tutti i contenuti multimediali che non sono immagini. Come per esempio l'anteprima dei link sui siti esterni, quindi su qualsiasi sito che venga condiviso per messaggio, a meno che l'utente non lo consenta espressamente, quindi dica che quel sito è affidabile. Per esempio se visitate un sito costantemente, se è un sito di cui vi fidate appunto, per esempio il sito stesso di apple.com, per dire potete andare, suppongo, nelle impostazioni e fare in modo che venga accettato come anteprima. Quindi come per dire che se una persona mi condivide un link del sito di apple.com, teoricamente puoi mostrarmi l'anteprima perché non dovrebbe esserci nulla di malevolo. Non ci dovrebbe essere nessuno che mi sta cercando di rubare dei dati. Mentre per esempio quei siti tipo abcd1.click, per dire, ecco, quelli magari potrebbero essere dei siti abbastanza, diciamo, non troppo affidabili. Quindi avrebbe anche senso bloccarli direttamente da sistema operativo. Altre cose che vengono bloccate con queste funzionalità sono gli inviti a servizi specifici, come per esempio FaceTime, per dirne uno. Le chiamate di FaceTime verranno totalmente bloccate, sarà impossibile ricevere alcuna chiamata che non sia però stata effettuata già in precedenza. Quindi per esempio se avete fatto una chiamata con una persona che conoscete in passato e quella stessa persona vi richiama, allora in quel caso la funzionalità sarà sbloccata e potrete ricevere le chiamate di questa persona. Nel momento in cui invece la chiamata viene effettuata da una persona con cui non avete mai parlato prima, la chiamata stessa verrà bloccata direttamente da iOS, in modo tale che non vi disturbi neanche e che non vi metta nella situazione di pericolo di rispondere ad una chiamata che potrebbe portare delle cose negative. Quindi per esempio call center, suppongo cose del genere, adesso nel dettaglio non so benissimo quali chiamate possono essere fastidiose e quali no, ma generalmente qualsiasi chiamata che non rientra direttamente nel registro delle chiamate o comunque nei contatti, suppongo dell'utente stesso, vengono bloccate e non ci sarà modo di rispondervi, a meno che appunto non sblocchiate la funzionalità di isolamento. Vengono bloccate anche le connessioni via cavo con qualsiasi Mac, PC e qualsiasi tipo di accessorio, a meno che il dispositivo, l'iPhone, quindi non sarà sbloccato e autorizzato espressamente. Ora come ora, teoricamente la connessione tra iPhone e Mac, qualsiasi dispositivo PC, in realtà qualsiasi computer, deve essere autorizzata espressamente dall'utente, ma la connessione tra computer e iPhone a quanto pare condivide qualche dato. In questo modo invece attivando questa modalità, qualsiasi tipo di connessione tra dispositivo, quindi lo smartphone e un PC, verrà totalmente troncata, a meno che non sblocchiate l'iPhone. Nel momento in cui sbloccherete l'iPhone, tutta questa comunicazione inizierà a dare il via alla condivisione dei dati. Una volta abilitata questa modalità di isolamento, sarà impossibile installare dei profili di configurazione, cosa che può tornare molto utile in alcuni casi, ma generalmente posso comprendere che Apple voglia bloccare questa funzionalità, questa impostazione, perché generalmente le persone quando installano dei profili lo fanno per cercare di boicottare, per superare dei limiti che ci sono teoricamente all'interno dei blocchi di iPhone, come per esempio per l'installazione di iOS 16 developer beta, per le persone che effettivamente non sono degli sviluppatori. Vi lascio qui in alto a destra il video se non l'avete visto, se vi interessa, e anche in descrizione magari. Chiaramente non è soltanto questo il punto, perché questo è il minimo. La cosa principale per il blocco dei profili è per quel tipo di installazione di applicazioni che magari sarebbero a pagamento, ma con i profili vengono sbloccate, perché riesci in qualche modo a bypassarle. Quindi se si vuole ottenere più sicurezza, più privacy, più privatizzazione dei dati stessi personali, questa funzionalità, quindi l'installazione dei profili, che sarà comunque disponibile, ma bloccata se attivate in modalità di isolamento, sarà bloccata in modalità di isolamento. Quindi se dovrete installare dei profili, potete tranquillamente sbloccare questa modalità di isolamento, ma non avrete comunque più tutti i benefici di questa funzionalità. Grazie alla modalità di isolamento, inoltre, sarà possibile bloccare qualsiasi tipo di registrazione in un sistema di gestione dei dispositivi mobili. E oltre a tutte queste cose che vi ho detto finora, in futuro verranno implementate ulteriori funzionalità, ulteriori punti, ulteriori sicurezze. Quindi Apple si sta muovendo nuovamente, ulteriormente, ed è convinto di andare avanti per la sua strada per quanto riguarda la sicurezza e la privacy degli utenti. È una cosa su cui puntano veramente tanto e che io personalmente apprezzo moltissimo. Una delle cose che mi ha fatto scegliere iPhone rispetto a qualsiasi altro competitor, perché ritengo che la sicurezza sia fondamentale e la privacy debba essere rispettata, soprattutto di una persona che paga molti soldi per ottenere un dispositivo. Questa lockdown mode è, almeno in teoria, pensata per le persone che hanno una certa visibilità. Quindi dei personaggi pubblici, dei politici, per esempio, che possono essere in qualche modo intercettati all'interno del proprio telefono, tramite dei malware, e quindi ottenere delle informazioni private che teoricamente potrebbero essere abbastanza fastidiosi, sia per le persone in questione, che anche per il pubblico nel mondo. Quindi questa lockdown mode viene incontro a queste persone. Ma sarà chiaramente disponibile per chiunque. Quindi chiunque avrà un iPhone con installato iOS 16, o comunque un iPad, o un Mac con macOS Ventura, potrà tranquillamente soffrire di questa funzionalità e farlo al meglio delle sue possibilità. Quindi in conclusione, quali dispositivi avranno la possibilità di installare iOS 16 e di conseguenza la lockdown mode? Tutti i dispositivi da iPhone 8 in poi. Perché come sapete, tutti i dispositivi precedenti ad iPhone 7 non sono più disponibili per il download di iOS 16. Ovviamente iOS 16 sarà disponibile anche sul nuovo iPhone 14, del quale ho fatto un video che vi lascio qui in alto a destra e in descrizione, se ve lo siete perso, se volete recuperarvelo, se volete rivedervelo, se siete interessati particolarmente. Detto questo, il video è finito qui. Era un video abbastanza breve, credo, non lo so sinceramente, abbastanza interessante, una curiosità che mi ha stuzzicato, quindi ho pensato di farci un video. Se il video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, se vi siete divertiti guardandolo, non lo so, se avete imparato delle cose, mettete un mi piace, commentate scrivendomi cosa ne pensate di questa lockdown mode, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se siete già iscritti, bravi? Ricordatevi di andare su Telegram, il link è qui. Forse è qui. E in descrizione sicuramente, lì pubblicherò delle cose che possono tornarvi utilissime nel mondo, nella vita, in tutto quello che fate, e in più, in questi giorni, nei giorni prossimi, metterò anche delle offerte interessanti per quanto riguarda il Prime Day, quindi state attenti, lì ci saranno tutte le novità, tutte le cose incredibili, cioè, ma io, guarda, fossi in voi, io entrerei subito, cioè, ma proprio adesso, cioè, se potessi entrerei adesso, cosa che posso fare, infatti, lasciatemi andare a farlo, perché è proprio bello. Ciao! Ciao! Ciao!